ciao a tutti e benvenuti nel canale in questo video vi spiegherò come completare una sfida della settimana 7 che richiede di raccogliere pietra da rapide a riposo rapide a riposo si trova praticamente qui dove c'è lago languido non potete sbagliarvi ed è questa zona tutto quello che dovete fare raccogliere pietra fino a quando non completate la sfida quindi armati di piccone o strumento raccolta che dir si voglia dovete praticamente rompere le pietre in questo modo qua per raccogliere appunto la pietra che vi servirà per completare la sfida quindi ripeto dovete raggiungere lago languido questa zona qui praticamente che è per l'appunto rapide a riposo dove dovete rompere le rocce per prendere l'apposito materiale quindi completare la sfida